Abbiamo restituito dignità e spazi alla spiaggia della Baia di Trentova. Queste le dichiarazioni nello scorso weekend del sindaco di Agropoli Adamo Coppola, l'arenile soggetto alla forte azione erosiva del mare si era ridotto notevolmente e si presentava pieno di massi, ha detto. L'operazione di ripascimento, prima della storia in quell'area, seppure fatta in extremis per attendere la necessaria autorizzazione, ha ampliato in maniera decisa l'arenile creando anche nuovi spazi di fruibilità. Poi il sindaco continua un intervento che, avendo ottenuto finalmente l'autorizzazione, potremo proporre ogni anno, in anticipo in modo da poter offrire a residenti e turisti non solo il mare cristallino ma anche una spiaggia capiente. A causa delle mareggiate dei giorni scorsi non è stato possibile espandere tutta la sabbia ottenuta dal ripascimento, cosa che faremo già da oggi. Grazie.